Allora, tre minuti dedicate a Casaleggio Boiro. Questa mattina abbiamo la benedizione degli armali. Guardate un po', come si chiama sto cavallo? Snappy! Snappy? Ma vedo che... Ciao ragasso! Un quarter horse! E vedo che fa fumo, quindi lui ha freddo. No, ha il calore del corpo, fa evaporare quel poco di sudore che ha, anche perché siamo andati al passo, quindi sta andando... Ma è bravissimo! Bravissimo! Ti porta in giro? Poi che abbiamo qui, guarda, di nuovo un canietto. Buongiorno. Scusi, non l'avevo vista. Come si chiama? Arturo. Arturo. Ciao Arturo! E guarda come mi vede, vorrebbe parlare, ma non può, non può. E invece qui un altro cavallo? Camomillo. Camomillo? È bello, tranquillo. Tranquillo come la camomilla, sì. Che bello, vedete, anche se volesse sapere qualche nome per dare alle animali, io ve le faccio dire, così a me vi danno una mano. Lui? Filippo. Filippo, il bassottone, guardatelo. Filippo, buongiorno Filippo. Come si chiamano? Tranquillo. Perché noi dobbiamo dare i nomi anche per chi ci ascolta. Bando e Reno. Bando e Reno. Ecco, sono i protagonisti anche loro della benedizione qui a Casaleggio Borghi. Cai. Cai, ciao Cai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, stella, stella. Guardate che bello, sono tutti belli pettinati questo mattino, perché devono fare bella, si dominano. Qui abbiamo un altro bassotto, come si chiama questo bassotto? Achille. Achille, ammazza. Ciao, Achille. E poi abbiamo? Yogi. Yogi. Yogi, il volpino. Ciao, Yogi. Però poi a me, io mi distraggo sempre quando sono alla benedizione, perché vedo che oltre a benedire gli animali, io benedirei quest'uomo. Guardate che fettine di salame che sta facendo. Lo taglio bene. È anche giusto, sembra proprio una fettatrice. Perché ce n'è poco, bisogna farlo andare. Ah, ecco, quindi fa le fettine piccole, hai capito? E invece qua, qui si parla di vino, vin brulé. Di latte. No, latte, ho paura che non ce ne sia tanto. Questo è vin brulé, che viene offerto a tutti quelli. E cioccolato anche? Cioccolato, cioccolato caldo. Cioccolato caldo, ragazzi. Poi lui distribuisce il vino. Tu non bevi, ne? A chi se lo merita. Però questo signore mi ha detto che la moglie cosa ti ha detto? Portiamo a benedire gli animali. Mi ha messo il guinzaglio e mi ha portato. Hai capito? Poveri uomini. Bella questa. E invece lui come si chiama, che bello tranquillo? Cica. Cica? Ma Cica, sei bravissima. Tu non abbagliata. È abituata a stare con gli animali. Bravissima. Guarda, questa è proprio una signorina, elegantissima. Come si chiama questo? Lilli. Lilli? Lilli. Guardate un po'. Perché questi animali ci siano di aiuto e fa che in un meraviglioso rapporto con la creazione impariamo a conoscerti e ad amarti. Ci vediamo ai prossimi tre minuti qui da Casaleggio. Ciao.